Grande preoccupazione nelle ultime ore per le forti raffiche di vento registrate a Catania e parte della provincia, in seguito all'allerta arancione per gran parte della Sicilia orientale diramata nelle scorse ore. All'insegna della prudenza si è proceduto in più comuni alla chiusura delle scuole e altri luoghi pubblici ritenuti a rischio. Il commissario straordinario di Catania, Piero Mattei, a causa dell'allerta meteo diramata, ha stabilito per oggi, 20 maggio, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private. Gli studenti non si sono arrecati a scuola per evitare i rischi connessi agli spostamenti. Sono stati chiusi anche i parchi comunali, il Giardino Bellini e i cimiteri. Da ieri, inoltre, l'autostrada Palermo-Catania è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra Enne e Caltanissetta, proprio a causa del forte vento e delle condizioni meteorologiche avverse. A comunicarlo l'ANAS, viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i mezzi provenienti da Catania, mentre quelli che arrivano da Palermo dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Caltanissetta. Massima prudenza per tutti i mezzi telonati. Il personale ANAS e i pompieri hanno agito nell'area per gestire la circolazione. Si sono già registrati disagi di diverso tipo legati alla circolazione e cadute di alberi e rami. Si consiglia di muoversi dalla propria dimora solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l'automobile, di evitare i sottopassi stradali, di non utilizzare mezzi a due ruote, non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d'acqua.